Non si può... Questo era uno dei 18 tiri della Russia. Questo era uno dei 18 tiri che... Era un tiro di qualità. No, a parte gli scherzi. Innanzitutto non si può fare il conteggio sui 18 tiri dopo 40 minuti. Ma bisogna guardare perché qui eravamo al sesto minuto, al diciassettesimo secondo, e eravamo 3 a 0. Quindi i russi con i primi 4 tiri hanno trovato 3 reti. Quasi con i primi due tiri. Ma con due, perché due erano svizzeri. Qui è una svista clamorosa. Farà bene per la notorietà di Führer, perché lo conosceranno anche in Nord America adesso. Però chiaro, dispiace. Io un gol così non l'ho mai visto. Io non sono l'unico. No, assolutamente. Confermo.